We are, we are, we can make it into something beautiful, yeah we don't have to try, we can make it into something wonderful, we'll never say goodbye. Amici di Real Rieti Channel, buonasera, benvenuti al Palamalfatti di Rieti dove sono appena entrati in campo le formazioni di Real Rieti e Bisceglie. gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Under 21 chi vince accede alla Final 8 tutto pronto partiti in questo momento 40 minuti per decidere chi tra Real Rieti e Bicelli accederà alle Final 8 in programma il prossimo 2-5 di marzo sconfitta con un gol di scarto ma andiamo in ecco una cadiretta Gagliardo preve sulla fascia destra valla in mezzo per il capitano Edoardo Scappa che cicca il pallone di un soffio maglia tradizionale bande verticali rosso-blu intanto attenzione subito Gagliardo viene intercettato poi riconvince il pallone il Real è la conclusione ancora Gagliardo il palo subito con una marcia molto alta la formazione a Maranto Celeste gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Under 21 tanto attenzione pericoloso lo stop e il tiro al volo per Osito José María Vázquez poi la conclusione di Gagliardo pian piano il Real guadagna metri concentrarsi sul presente che mette il Real nelle condizioni di poter sognare ancora e allora si rinnova il duello tra Gagliardo e Sini Caglia ancora lo sito possesso del pallone con la suola lo lavora Curiellestro è presente Sini Caglia prova ora a fare densità nella metà campo del Real e il bisceglie poi ancora Gagliardo parta sguarnita buona la chiusura di Sini Caglia prende la rincorsa Matteo Esposito conclusione piazzata stava per venire fuori un gioiello di gol a riconquistare il pallone ora quintetto Brevilino se ne va Martidelli il pallone non passa sotto le gambe del portiere e poi a favore del Real del Bisceglie scusate conclusione di prima intenzione da parte di Fiorucci temporeggia scarica sulla sinistra per Romano che se ne va dalla parte sinistra conclusione deviata ha permesso al Real di staccare davvero il biglietto per il playoff intanto attenzione progressione tiro di Manuel Gagliardo secondo palo di serata per lui poi lo sito gioca questo pallone ancora con il numero 11 Edson la conclusione e c'è il gol di Edson al decimo minuto e 43 secondi la rete di Edson che porta in vantaggio Bisceglie gioca questo pallone lo apre dalla parte opposta per Esposito uno contro uno palla sul destro conclusione che Sibila Final 8 sarebbe proprio il Real tanto attenzione clamoroso l'errore sottoporta Sinigaglia in avanti attenzione blocca il pallone in qualche modo di Terlizzi stava per far fuori anche Uriellistro Rosito scappa per Martinelli ancora se ne va Martinelli era buona l'intenzione riparte l'amante Real attenzione Edoardo scappa palla per Martinelli ancora incredibile terzo palo colpito da Real che ora subisce la contro rimessa di Losito si supera Uriellistro siamo sempre sul 1-0 in favore del Bisceglie ora ci prova Tubotti a sorprendere Sinigaglia ma 5 secondi alla Sirena proverà forse l'ultima conclusione in porta il Bisceglie non riesce eccolo qui finisce il primo tempo primo tempo davvero a ritmi altissimi fischietto in bocca per il signor Stefano Massacesi partite in questo momento ultimi 20 minuti per due gol di scarto da parte del Bisceglie si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai carci di rigore riparte nuovamente Real Edoardo scappa per Esposito la conclusione erroraccio di Matteo Esposito poi Osito intercettato da Murolo uno contro uno di Murolo contro quattro giocatori di Real riesce Murolo in qualche modo ad arrivare alla conclusione Esposito Esposito alla battuta per Osito poi Gagliardo pallone in mezzo il pallone esce ancora un palo e una traversa clamoroso ragazzi davvero clamoroso questa sera progressione Gagliardo la conclusione ancora Sinigaglia a superarsi pallone che arriva Urielistro lo rimette in gioco fase cruciale del match ancora Gagliardo ancora Sinigaglia ancora il numero quattro Maranto Celeste Romano scambia ancora sottoporta per a Stefanoni lo scavino che non va a buon fine Gagliardo attenzione erroraccio scavino il piracolo di Urielistro che salva su di Terlizzi Tubotti spalla la porta attenzione Tubotti palla sul destro conclusione ancora Sinigaglia fino a questo momento insuperabile ma sbaglia tutto allora Gagliardo conclusione ancora un calcio d'angolo in favore di Bicelli palla in mezzo Listro Gagliardo fine in fondo poi il destro piazzato di Martinelli con la cambio in vista per il Real ancora manovra Martinelli palla sul destro e arriva il gol Alessio Martinelli 11 minuti e 3 secondi sul cronometro arriva il gol del pareggio Martinelli fa esplodere le palla malfatti ci aveva provato già in un paio di volte questa volta si pallone sotto l'incrocio dei pali Real Rieti bisceglie lo sito si prova e Uriel si supera questa final eight sarebbe davvero il giusto premio e intanto Uriel Listro ancora miracolo su miracolo di Pierro Sinigaglia Edson attenzione di Pierro Osito ancora Uriel Listro dalla parte opposta per Edson 6.45 da giocare pallone libero Uriel Listro la conclusione Uriel Uriel Listro il portiere che non me lo ti aspetti realizza il gol del 2 a 1 porta vuota beffa Sinigaglia Uriel Listro porta in vantaggio il Real avanza ora Sinigaglia chiude nuovamente il pronuncio della porta è vuota questione di centimetri poi Osito ricordiamo tra l'altro che il Real ha speso il bonus dei 5 palli gol asso e il pistolero Gugnerme Seppanoni 3 a 1 replicato fino a questo momento lo stesso risultato dell'andata la zampata di Gugnerme Stefanoni che si è stampata sotto l'incrocio dei pali questo è un risultato che insieme all'altro danno molta sicurezza ora ancora Stefanoni prova a girarsi sul destro ancora scrivere pagine importanti c'è il fallo su Romano giallo per Murolo per una final eight inedita una final eight storica per la formazione Amaranto Celeste intanto Edson prova a mettere i brividi a Urielistro 10 secondi 8 7 5 4 3 2 1 si arriva la sirena Real Rieti si qualifica per le final eight edizione 2016 Real batte Piceglie 3 a 1 vista il successo dell'andata e si qualifica per le final eight di Coppa Italia edizione del 2016 che si disputeranno dal 2 al 5 marzo a Martinsicuro la finale si disputerà invece al pala Giovanni Paolo II lacrime a Brasci Veruli è listo migliore in capo ed Sullivan bibliotec Give me a the santa hilich ti 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 Grazie per la visione